Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2, io sono Glacial Sphere ed oggi proverò per la prima volta Eco, il nuovo campione inserito, o meglio, sì, il nuovo campione più o meno inserito in Overwatch 2, non è proprio nuovo da quello che vedo qui c'è un Overwatch 1 come modello e voglio vedere appunto qual è, come sono le sue abilità perché non l'ho mai provata. Allora, colpo triplo Eco spara tre colpi contemporaneamente seguendo uno schema triangolare, ultra duplicazione, Eco diventa una coppia di un eroe nemico bersaglio, che non può cambiare eroe per la durata dell'abilità, ok, bombe adesive, lancia una salva di bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo, oppure Eco vola in avanti rapidamente e può effettua un volo libero per un breve periodo, e raggio focalizzante, Eco emette un raggio di alcuni secondi, infliggendo danni ingenti ai bersagli con meno di metà salute, Planate Eco può planare durante la gravità e teneremo avuto il salto, ok, va bene, da provare, da provare, iniziamo a provare eh, passo a destra sono le bombe giusto? Vai, tiriamo, ah non hanno però la gravità, ecco che ricarica. Ok, le bombe sono toste da tirare, bisogna andare più vicini sicuramente, ah interessante questa cosa, la posso andare qui dietro e tirare le bombe su di loro, minchia sciottano le bombe però, altro che, ok le bombe sciottano, abbiamo già capito più o meno com'è il gameplay di questo campione, le bombe fanno un male del cane se le attacchi tutte e tre sullo stesso personaggio, specialmente se è un personaggio non molto forte, con molta salute. Comunque nel frattempo, mi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, magari dandomi anche dei consigli su come usare al meglio Eco, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Io sto facendo danni eh, in questo momento, come vedete sto tirando danni a manetta. Nooo, devo ripararmi, non l'ho fatto in tempo. Sì ma comunque io ho sentito mezzogiorno di fuoco, ah ok, l'ha attivato subito lui, ok. Però mi ha ucciso comunque, mannaggia lui, anche se l'ha attivato subito. Ok, è molto lento comunque come campione questo. Devo sfruttare per forza questa roba qui per andare più avanti più velocemente. No, volevo usare le bombe. via. No, volevo andarmene. Eh, vorrei andarmene, grazie. Non potevo andarmene, ero bloccato lì da non so quanto tempo. Ok, tosta da usare Eco. E soprattutto la sua Ultimate mi sembra molto, molto, molto utile dal punto di vista competitivo. Non tanto in questo tipo di partita qua che è una partita non competitiva. Cioè io, beh, blocco un campione nemico però non è che sia proprio così utile. Anche perché dovresti coordinarti e in realtà dovrebbe essere tipo fortissima perché gli impedisce di prendere un counter. Però dovresti coordinarti con il tuo team, per forza. Eh, vabbè, Bob però, che cazzo. Non ho fatto tempo a fare nulla. Ora devo praticamente... leggiamo bene la sua abilità. Eco diventa una copia di un eroe nemico bersaglio, che non può cambiare eroe per tutta la durata dell'abilità. Ok, quindi io divento lui. In teoria, ok. Divento lui. Vediamo come funziona davvero, eh. E qua hanno disintegrato tutti. Se magari tu provassi ad andare a dargli la mano? Tipo se diventassi Marisa. Il mio team avrebbe due tank. Vai. Ma tra l'altro Marisa sono cambiate l'abilità. È nuova questa Marisa. Ok. E ora sono ritornato normale, sono ritornato eco. Che quindi non è infinita come cosa. Ah, ho sperato di evitarlo fino alla fine. Ok, eco è molto difficile da usare per quanto mi riguarda. Molto. Infatti non sto facendo molti danni. Il mio team stanno sicuramente mancando i miei danni. Però voglio comunque provarlo. Voglio vedere quanto è difficile effettivamente usare questo campione. se magari dopo una o due partite ci prendi la mano diventa più facile. Eh, vai qua però ho fatto la cagata. Io mi aspettavo più supporto nel mio team. Invece boh, sono tutti fermi a fare un cazzo. Non capisco. Si, eco è fragilissimo comunque. Com'è giusto che sia. All'eroe. Ok, ricordiamoci che plano io ho. Dai, non l'ho colpita con nessuna bomba. Eh no, guarda le bombe. Fanno danno le bombe, eh. Cioè, devono essere loro il focus del mio... del mio kit. E poi devo finirli con la E. Molto probabilmente. Niente, abbiamo già perso questa prima partita, purtroppo. Azione migliore di D.Va. Vediamola. Oh, questa sarebbe l'azione migliore. Va bene. Mi sembra... Se questa è l'azione migliore ci fa capire quanto abbiamo fatto schifo in questa partita. Comunque, andiamo subito nella prossima. Partita trovata. Andiamo di nuovo con la nostra eco. Che abbiamo visto essere un campione molto difficile. Quindi, vi invito a lasciare un bel commento con magari dei consigli che mi potete dare per sfruttare meglio il suo potenziale. La sua ultimate è davvero. Non credo che possa essere utilizzabile bene in una partita che non sia coordinata in un team 5v5. Perché duplicare un campione così a caso, in maniera estemporanea, non so quanto possa essere utile, sinceramente. Ok, io posso planare in questo modo, sì. Non ha una planata troppo forte, in realtà. Beh, tocca provare a far canestro. Non riuscirò mai a far canestro in questo campione, vero? Ok, arrivando da qui, però sì. Vai! Attenzione! No, niente. Scattino e via. Ok, vediamo cosa si riesce a fare ora, eh. Proviamo ad andare da questa parte. Insieme alla nostra asce. Ok, buono. Buona la finisher. Buono. Buono. Ma ha una cura? Ehi, Moira, sono dietro di te, ce la fai? No, dai! No, mi hanno ammazzato, peccato. Però inizio già a capire un po' meglio come si gioca, eh. Vedete, anche a livello di danni sono molto più alto rispetto a prima. Certo, ho anche più opportunità di far dam, qua c'è da dirlo, eh. Ho più opportunità di far dam. Ah, ci ho provato, peccato. Però devo fare un po' di scompiglio lì dietro. Erano in due contro uno, purtroppo. Il mio team però non riesce a fare molto, sbaglio. Continuo a fare parecchi danni, ma il mio team mi... No, dai, sta parando tutto il mio danno. What? No! Mi è arrivato contro un colpo di Reinhardt, mi sa. Un'aie di Reinhardt, incazzatissima, sì. Dai, che sfiga però. Dai, 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 riproviamoci, riproviamoci. Ho comunque il punto, non siamo riusciti a prendere nemmeno una percentuale misera, eh. Ma non l'ho presa, lei? Ah, ma ha un range, sta roba. Ma no, ma dai, ma pensavo fosse molto più lunga. Pensavo fosse molto più lunga, lei. Vabbè, dai, primo round perso. Vediamo se si riesce a fare qualcosa nel prossimo, eh. Dai, eh. Abbiamo 25 secondi. Nel senso che appena mi metto giù, tu mi butti via la palla, vero? Eh, appunto. La palla me la buttate via immediatamente. Tic, vai. Vediamo se riesco a fare il canestro. Quasi, peccato. Peccato, peccato. Ok, dai, vediamo cosa riesco a fare ora con Equa, eh. Vai, 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 vai. Hai una mobilità davvero alta in questo personaggio. Anche se, come vedete, gente, come diva, riesco comunque a starci diretto tranquillamente. Ok. No, volevo tirare le bombe. Ho di pure tu, ragazzi? No, eh. Ok. Facciamo preparare tutti. Ah, peccato, Genji, mi ha disintegrato. Mi sa che Genji è un counter abbastanza buono di questa Equa, eh. Peccato, peccato. Però siamo riusciti a prendere il punto, dai, almeno questa volta. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo da questa parte. Buono. Sì, ragazzi. Andare subito con le bombe appena ce le avete. Che sono OP. Ottimo. Senti lì, eh. Infatti, eccoli. Via. Una curettina? No, eh. Oh, io ho fatto i danni che dovevo fare, lì. No, dai. No. Eh, niente. Ho provato ad andare via, ma Reinhardt con la sua ultimate mi ha disintegrato. Molto probabilmente se riesco a usare la ultimate... Ok, a parte che non ha sbattuti fuori due. Quella probabilmente è la play of the game. Molto probabilmente quella è la play of the game. Prego, ti ho chiuso tutti. Vai. Mi prendo Reinhardt. Aia. Ma fa danno sta roba, eh? Buono. Ottima. Arriveranno da là, magari, ora. Dovranno fare il giro da là. Io una bomba per sicurezza adesiva la tiro. Ok, non arriva nessuno. Aia. Che botta. Buono. Ottimo, raga. Ottimo. Buono, dai. Buono, buono, buono. Ah, tra l'altro con eco posso anche mettermi tipo qui sopra. E colpire... Colpire fortissimo la gente che non se lo aspetta dall'alto. Ottimo, dai. Uno pari. In questo round ho fatto molto meglio. Ma in generale in questa partita sto facendo molto meglio della precedente. Come è giusto che sia. Guardiamo i danni. Ok. Ash mi ha superato a livello di danni. Però è anche vero che lei con la ultimate potrebbe fare tipo tranquillamente un bordello di danni. Provendo solo cui io con la ultimate sono molto più limitato. Direi che comunque 4.600 danni con eco non penso siano troppo malvagi. 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Ma tipo se facessi così? L'attaccarsi sulla palla. Va bene. Ah, bella sta macqua. Ok. Qua è forte la gente che butta giù gli altri. Attenzione, attenzione, attenzione. No. Allora Mi hanno distrutto Attenzione, attenzione lì Buono, ho messo le bombe Vai, vai, vai Mi sa che mi hanno visto qua Mi aspettano, appunto A questo però Genji non lo può rispedire indietro Io l'ho fatto un po' di danni Vai Buono Ottimo Devo usare molto di più il maiuscolo Che faccio perdere le mie Le mie tracce di avversari Questo è tra pasta di scudi magari Che ha fatto un bel po' di danno Via Io ci ho provato qui a fare danni Buono Buono Grandi Mi ha pure baggato le cuffie Quella tipa Ah niente Ci ho provato Serie di 6 uccisioni Comunque non male Come danni Ho superato Asce Eh qua Mi ha proprio disintegrato Vai Andiamo di qua Arrivano Buono Ottimo Aia Che botta lì Mi son preso Un po' di cure raga Un po' di cure per favore Grazie Buono Ottimo Vai Bob Fa qualcosa Ah peccato Ho fatto comunque molti danni A Orisa Finché 7400 Lanni Non male Orisa comunque sta facendo Tanti lanni Quanto già Orisa è sbroccatissima Secondo me Sto over È da provare comunque Perché è nuova E hanno cambiato Quasi tutte le abilità Praticamente Quindi è assolutamente Da provare Vai Mi prendo Buono Buono Grandi Grandi Li abbiamo battuti Uff Uff Bella vittoria Questa Davvero una bella vittoria Azione migliore della partita Con D.Va Va bene Ah Qui mi ricordo Se non sbaglio Ci ero anch'io Qui vicino Minchia ha portato direttamente Il coso dentro Vabbè Qua ha fatto una bella azione Davvero Sì Qua ha fatto davvero Una bella azione Ok Andiamo con l'ultima partita Di questo video Sempre con Echo Ed eccoci in questa nuova partita Andiamo sempre con la nostra Echo Eccoci La partita precedente Non è andata per niente male Comunque Davvero niente male Vediamo come va questa Abbiamo Junker Queen Asce Vediamo Vediamo Poi abbiamo Ana E lei esattamente Chi sarebbe? Oddio Questa non me la ricordo Ok Ma dai Ha mandato gli asci Per prendere Widowmaker Ma si può Boh Beh Magari in questa Mappa Può servire Più Widowmaker Effettivamente Aia Vabbè Sono già morto Vero? Ecco fatto Eh si Prova a colpirmi va Prova a colpirmi da così lontano È attenzione Lo so Non so se riesco a fare qualcosa Qui Mi servono delle cure Grazie Ok Altre cure Per favore Mi ha visto Sì No ma mi ha visto Però quella sbagliata Via Oppa Addio Buono Dai muore quella L'ho messo le bombe Non muore Ah attenzione Abbiamo là sopra un Anzo Un Anzo che si becca Delle bombe in faccia E poi è che muore Buono Senti Eh si Regina dei Junker Vai vai Buono Crepa Regina dei Junker Va vai Provo a conquistarlo io Grazie Buono Buono Non si riesco a raggirarli Un attimo Buono Addio Anzo Addio Oh Che spara da là Merda Sono introvato Tra due fuochi E tra l'altro Con la ultimate Di Moira Insomma È difficile Fuggire Qui Moira Potrebbe aver fatto Il casino Potrebbe aver fatto Un macello Moira Sono sul carico Venite qua Oh ma questa dietro Peppa Muori Via E quella è una finisher potentissima Ragazzi Potentissima questa finisher Come ce n'è uno Pestatelo Via È ancora qui dietro Soldato Eccolo là Oh Crepa Addio Fortissima per fare Anche queste cose Lei Ecco Ti finisco Ti finisco Con la E È buono Ok Forse ho capito Il gameplay Lupo di questa Poi ho fatto Un botto Di danni Fa ragazzi Però mi sa Che non bastano Buono Via Ottimo Ottimo Noo Mi hanno ammazzato Peccato A livello di danni Non sono male Sono ancora top damage Del team Insieme praticamente A raw dog Ma qui abbiamo visto Che davvero I tank Fanno dei danni assurdi Anche Anche Orisa Fanno dei danni Davvero folli Buono Ho tirato un botto Di headshot Delle curette Ana Te la fai A tirarle È meglio Non andare in bocca A un soldato Muori Noo Dai La torretta Mi ha ucciso Ecco perché Ho continuato a spararmi Anche da poco Ho usato La mia schivata Era le aimbot Eh guardalo Infatti Peccato Io ho la ultimate Pronta Dio vabbè Che danni raga Cioè con calma Secondo Buono Assio Sì Un secondo Qua hanno usato Le ultimate Però Dox Si sta tankando Un sacco di colpi Eh No Ho sbagliato Che va Buono Buono Avviene anche la torretta Noo Ho fatto la cazzata Eh infatti Ho fatto comunque Mezza vita A Roadhog Ma non servirà a nulla Quanto sicura Ma potrei fare Magari la giocata Usando la ultimate Per prendere Roadhog Sì però Se abbiamo qualcuno Dietro K Ah no Che si è presa Orisa Buono Via Senti qui Boh raga Ho fatto un bordello Di danno Qualcosa Ma non muore Cioè Anche il nostro Il nostro altro danno Sta mancando Un po' di danni Certo è un cecchino Quindi in realtà Non è che debba fare Troppo danno Deve farne poco Concentrato Per essere efficace Però insomma Quasi la metà Dei miei danni Via 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 Non ho La spela Per andarmi Ok Ora si Minchia però Boh Cioè Se quello Può fare Quella cosa lì Da un tank Non mi sembra Troppo bilanciato Sinceramente Boh Va bene No niente Non riusciamo più Ad avanzare Da lì Non riusciamo più Ad avanzare Oltre Eh vabbè Poi c'è Quel guidomaker Che continua A fare headshot Ah non è Widowmaker E quella roba lì È Chirico È Chirico Che fa headshot A caso Cioè Non ci posso credere Guarda È impossibile Non possiamo Nemmeno più uscire È finita È morto Guarda te che danni Dimite se è una cosa normale Io vi ho stato retta Allora prendo Roadhog Nooo Pensavo avessi Meno vita Forse si era curata E mi sa che è persa Ragazzi questa Mi sa che è persa O Chirico Comunque è fortissimo Chirico è davvero forte Poi se ha il culo Perché poi gli è culo Di fare gli headshot Eppure meglio Mi sa come fare Headshot O una cosa del genere Niente L'abbiamo perso Va bene così Va bene comunque Dai Io ho imparato A usare questa Eco Spero di aver imparato A usare Un pochettino bene Questa Eco Ovviamente Il tank Si lamenta Di avere più danno Dei nostri danni Ma è una cosa che accade In quasi tutte le partite In realtà Quindi non è una cosa Molto Incredibile Se ci pensiamo E la cosa più incredibile È questa Che ammazza tutto Il nostro team Dal lato Senza che nessuno La veda Peccato Comunque Io vi ringrazio Per aver seguito Questo video Vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di commentare E di iscrivervi al canale Per non perdervi I prossimi caricamenti Da Douglas Special Sphere È tutto Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video